Intanto lo ringraziamo per essere intervenuto e averci regalato la sua presenza. Grazie prima di tutto dell'invito. A me faceva molto piacere essere qui, poter parlare con voi di lavoro, di futuro e di sviluppo economico. Ho accolto la sfida di mettere insieme due ministeri, quello del lavoro e dello sviluppo economico. Devo dire che secondo me è una sfida che possiamo vincere, perché siamo in un momento del Paese in cui mi ritrovo al tavolo del Ministero del Lavoro, con i rappresentanti sindacali, con i rappresentanti delle aziende, a risolvere delle crisi, magari intervenendo come è stato per la team qualche settimana fa, scongiurando la Cassa Integrazione. Ma a quei tavoli cerchiamo di trovare una soluzione all'attuale problema di un modello di business, di sviluppo. Poi però, quelle stesse persone che sono sedute a quel tavolo di crisi, sia la proprietà, sia i rappresentanti dei lavoratori, di chi lavora, mi chiedono, ma adesso è il momento di rilanciare, è il momento di lanciare un nuovo modello di sviluppo per questo settore, non solo per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, ma anche per crearne degli altri. E allora, la sera di due lunedì fa, quando abbiamo chiuso l'accordo team, ovviamente grazie ai funzionari del Ministero del Lavoro, grazie ai rappresentanti di chi lavora in quell'azienda e grazie a chi era seduto al tavolo della proprietà, quando l'abbiamo chiuso, ci siamo anche detti, adesso attraversiamo la strada, perché via Veneto ha da una parte il Ministero del Lavoro e da una parte il Ministero dello Sviluppo Economico, mi cambio la casacca e cominciamo a parlare di un nuovo modello di sviluppo per le telecomunicazioni per rilanciare quel settore. E' questo quello che sto e che dobbiamo cercare di fare nei prossimi anni. Io sono arrivato in Parlamento circa sei anni fa, in questi sei anni ho rappresentato le istanze di tante persone che venivano da me e mi portavano le loro sofferenze, questo è un Paese che ha circa 2,7 milioni di persone che non hanno più cibo, circa 4,7 in povertà assoluta e 8,2 in povertà relativa, ma la cosa che più mi sta a cuore e che devo affrontare ogni giorno che metto piede al Ministero è la questione che il 12% dei lavoratori italiani lavora ma è sotto la soglia di povertà relativa. Quindi c'è un problema di povertà, c'è un problema di lavoro, ma c'è un problema anche di quale lavoro può risolvere il problema della povertà, che tipo di lavoro, quale livello di retribuzione. Ed è la grande sfida che ci aspetta, altrimenti nei prossimi anni noi andiamo incontro ad una tragedia sociale in cui questo 12%, ma anche, spero di meno, ma se non interveniamo potrebbe essere anche di più, si ritroverà a non avere abbastanza contributi per arrivare ad una pensione sopra la soglia di povertà relativa e a non avere figli che li possano accudire, perché la vera altra grande questione è che ieri quando sono intervenuto al Consiglio europeo dei Ministri del Lavoro in Lussemburgo è che tutti sono consapevoli di una questione, che prima ancora è la crescita economica, dobbiamo preoccuparci della crescita demografica in questo Paese. Siamo l'ultimo Paese che fa figli in Europa e questo è legato anche al tema del lavoro e della solidità del contratto con cui veniamo assunti. Perdonatemi se ho fatto questa premessa su dati che conoscete molto bene. Il mio intervento qui oggi vuole essere l'inizio di un percorso, con tutte le parti che vogliono lavorare a questi problemi, con tutte le sigle di rappresentanza dei lavoratori, ma anche con le sigle di rappresentanza dei datori. Io voglio lavorare con tutti quanti per riuscire ad arrivare a delle soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti. Qual è la questione principale? E che mentre si fa un grande lavoro per difendere il lavoro esistente, le posizioni lavorative esistenti, per non far scappare delle aziende all'estero, per non farle delocalizzare a volte in mala fede, per non farle chiudere con un comunicato o con una lettera, come si diceva prima, stanno nascendo, e lo sapete bene, so di parlare a persone che conoscono questo argomento, nuove categorie di lavoratori, che a volte non conoscono neanche il loro datore, che a volte non hanno neanche un contratto, e che oggi in alcuni casi, soprattutto i più giovani, chiedono di lavorare pur senza stipendio, solo per dire di avere un lavoro. È un concetto questo che sta distruggendo la cultura del lavoro in Italia. Tanti ragazzi oggi chiedono di lavorare pur di non stare a casa, e a volte ci rimettono soldi, a volte ci rimettono i soldi per arrivare sul luogo di lavoro. Questo tema è un tema che è rappresentato da una categoria che non è l'unica a vivere questa sofferenza, però che ho deciso di accogliere per prima al Ministero del Lavoro, anche prima di incontrare i rappresentanti del settore metalmeccanico sulla questione ILVA, e che sono i cosiddetti riders, che sono il simbolo di una generazione abbandonata, che oggi è in balia di app, piattaforme digitali, multinazionali, che a volte utilizzano la loro forza lavoro senza fargli neanche un contratto, senza dargli una minima tutela. Questo non è il tema specifico dei riders, è il tema dei nuovi lavori che stanno nascendo. Secondo i nostri studi, entro il 2025-2030, il 50% dei lavori, così come lo conosciamo, si trasformerà in Italia, anche il 60%. Molte di queste persone lavoreranno per delle piattaforme digitali, ma devono avere delle tutele. Lo sapete perché? Perché quando un ragazzo mi consegna del cibo a casa in bicicletta e viene messo in competizione con una macchina, perché tra un po' qualcuno dirà, vabbè lo facciamo consegnare ai droni, quel ragazzo che viene a casa mia, mi stringe la mano, mi sorride e mi dà quella pietanza, ha un valore aggiunto che va retribuito. E se tu vuoi mettere in competizione l'uomo e la macchina, e vuoi l'uomo che lavora per te, il suo talento, le sue capacità e la sua umanità le devi pagare, non le puoi mettere alla stregua di una qualsiasi tecnologia. Quindi io avevo semplicemente fatto una cosa con questi ragazzi per dirvi come voglio lavorare in questo senso. Io ho detto io voglio fare delle norme che vi tutelino, cioè che facciano in modo che quello che fate sia lavoro e non sia sfruttamento e non sia qualcos'altro. Queste sono le tutele. Le mettiamo in un testo e le facciamo diventare legge per questa categoria di chi lavora per le piattaforme digitali. Dopodiché si sono fatte sentire le piattaforme digitali, le ho incontrate al Ministero del Lavoro e gli ho proposto un percorso. Ho detto da una parte mettiamo le rappresentanze dei lavoratori, questi ragazzi che a volte per effetto anche della nuova categoria di lavoro non si riconoscono, ma non lo dico per polemica, nelle classiche sigle sindacali, quindi si auto-organizzano, dovremo affrontare anche questa questione. Quindi da una parte mettiamo l'oro e da un'altra parte mettiamo le piattaforme digitali. Se a quel tavolo si trova una soluzione per le tutele di questi ragazzi non c'è bisogno della legge, perché a quel punto avremo trovato un accordo, un nuovo tipo di contratto per la cosiddetta gig economy che li possa tutelare. Ma se invece mi si viene a dire o ce li fate sfruttare o ce ne andiamo all'estero, allora io faccio la legge per tutelare quei ragazzi, perché questo è il mio modo di vedere le cose. Ma devo dire che c'è stata un'ampia disponibilità e quindi la settimana prossima ci sentiremo e cominceremo questo tavolo sui lavori della gig economy. La questione dei giovani è molto importante, vanno coinvolti soprattutto nel concetto di lavoratore. Ieri per poco al Consiglio europeo non siamo riusciti ad inserire la definizione di lavoratore all'interno di una direttiva che stavamo discutendo. Si è demandato agli ordinamenti nazionali. Io questa direttiva ovviamente l'ho presa in corsa, perché faceva parte delle discussioni del vecchio governo. Spero che nella fase di discussione in Parlamento europeo possa essere migliorata. Però c'è bisogno adesso di stabilire chi è il lavoratore, che cos'è un lavoratore, con quali tutele e con quali definizioni. Perché stiamo andando in una direzione che mi preoccupa molto, che è quella proprio di quei ragazzi, non per forza del sud, ma anche delle periferie del nord, che oggi accettano qualunque cosa, pur di dire magari ai genitori che hanno trovato un lavoro, pur di dire agli amici che hanno trovato un lavoro. Questa è una questione sociale che mi preoccupa non poco e perdonatemi se sono ripetitivo. Mi fa piacere che stamattina negli interventi che mi hanno preceduto si sia parlato molto della partecipazione dei lavoratori, della partecipazione delle decisioni che prende un'organizzazione di rappresentanza con i suoi iscritti. Questa partecipazione che a noi sta molto a cuore, ma soprattutto che nel contratto di governo vede, per esempio, parlo degli strumenti già previsti dalla Costituzione, l'abolizione del quorum nel referendum abrogativo. È un tema che chiama la mobilitazione. Per anni il referendum li vinceva chi se ne stava a casa. È arrivato il momento, con l'abolizione del quorum nel referendum, di fare in modo che chi va a votare conta e chi se ne sta a casa si prende le sue responsabilità. Questo concetto ovviamente mi permette di introdurre un'altra cosa, che riguarda anche le aziende per cui lavorano tante persone. Perché io sono messo insieme sviluppo economico e lavoro perché credo che si possa fare un gioco di squadra tra la parte datoriale e la parte dipendente. Queste due parti, soprattutto nelle piccole e medie imprese italiane, hanno fatto il miracolo del Made in Italy nel mondo. E io ci credo molto in questo. E deve essere chiara una cosa, che non sono uno di quelli che pensa che tutti i problemi di questo Paese si possano risolvere con delle leggi. Io non voglio intervenire e non voglio che questo governo intervenga continuamente con leggi in ogni dinamica economica di questo Paese. Perché facendo così molto spesso si sono bloccati gli investimenti complicando troppo il codice degli appalti, si sono bloccate le imprese riempendole di burocrazia per oltre 30 miliardi di euro all'anno di costi, si volevano perseguire gli evasori con degli strumenti che stanno perseguendo quelli che le tasse le hanno sempre pagate e alla fine il meccanismo generale che si è creato è di paura di essere sempre fregato da una delle 187 mila leggi esistenti nel Paese che prima o poi ti sfuggono. Quindi io non sono uno di quelli che pensa che lo Stato possa cambiare tutto con la legge, anzi io ho rivolto più volte un appello ai parlamentari che da domani cominciano a lavorare nelle commissioni che si sono formate oggi, quindi da lunedì dal punto di vista lavorativo del Parlamento, ho rivolto un appello chiaro e ho detto non bombardate i cittadini di troppe leggi perché forse è arrivato il momento di semplificare e abolirne un po' di quelle che non servono e per sapere quali siano quelle che non servono dobbiamo portare avanti un dialogo con tutte le parti. Io credo invece molto che l'Italia si possa cambiare con l'esempio delle istituzioni, se nelle istituzioni ci sono persone che danno l'esempio e allora il Paese può cambiare molto più velocemente. Questo ovviamente per me è un vantaggio dirlo adesso, mi sono insediato 15 giorni fa, quindi è molto semplice, ma è anche un impegno che bisogna ricordarsi, ricordare a se stessi sempre. E vedete, il lavoro che stiamo facendo adesso alla Camera dei Deputati, credo che questa sia una settimana buona per abolire vitalizia agli ex parlamentari, è prima di tutto un messaggio che si vuole dare da questo punto di vista. Io lo so che qui magari ci sono persone che pensano che non sia una questione di soldi, no, è una questione di giustizia sociale. Dobbiamo cominciare di nuovo a rimettere al centro alcuni segnali istituzionali e tra questi, dopo i vitalizi, passeremo anche alle pensioni d'oro, quelle che sono nel contratto e che sopra i 5.000 euro netti vanno tagliate se non hai versato i contributi per avere una pensione d'oro. E spero che su questo mi possiate dare una mano nei prossimi giorni, perché è una cosa che voglio portare avanti come Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Si è parlato molto di investimenti, so che la segretaria Furlan ne ha parlato prima nel suo intervento, parlando di investimenti, perché è vero, il lavoro si crea con gli investimenti in Italia. Su questo però dobbiamo chiarire una cosa. Noi nel nostro contratto di governo abbiamo inserito una clausola che individua uno studio costi-benefici sulle grandi opere italiane. Lo dico magari a chi viene dall'estero ed è qui ad assistere a questa conferenza. Il tema che noi dobbiamo ben chiarire è che il vero problema in Italia è che in alcuni casi si facevano opere per spendere soldi e non si spendevano soldi per fare opere. Questo concetto qui è alla base di alcune questioni che noi abbiamo posto, come quella della TAV in Val di Susa. Poi ci sono da spendere soldi per fare delle opere importanti. Penso a Matera, capitare la cultura, che non ha ancora il treno che arriva. Ci sono ponti sul po' nella, tra virgolette, ricchissima Lombardia che traina quasi un quarto del pillo italiano, ponti sul po' che crollano per mancate manutenzioni. Ci sono investimenti da fare in strade, autostrade, in alcune zone del nostro paese. Io penso che sulle infrastrutture ci sia molto da fare. Voi direte, ma dove prenderete tutti questi soldi? Beh, c'è prima di tutto un tema. Dobbiamo sbloccare quelli che sono già negli enti locali e territori. E che non si muovono. Il Ministero del Sud che abbiamo individuato è un ministero che deve mettersi dalla mattina alla sera a sbloccare i fondi europei che sono già destinati e non si stanno spendendo. E soprattutto dobbiamo semplificare il codice degli appalti perché in alcuni enti locali e territoriali ormai c'è la paura di mettere una firma sotto a una delibera per sbloccare un investimento. Se riusciremo a sbloccare i miliardi di euro che sono già allocati negli enti territoriali e locali allora potremo già rimettere in parte in moto l'economia. Come prima si citava, l'ILVA è una delle questioni più importanti che abbiamo sul tavolo. E giustamente mi si chiede, non da voi, ma in generale, di risolvere in 15 giorni una questione rinviata per 6 anni e trascurata per 20. Io ce la metterò tutta e in questi giorni stiamo studiando tutto il piano industriale, il piano ambientale, il piano finanziario, cose che non erano note pubblicamente fino a qualche tempo fa. Ed è chiaro che ci sono due interessi primari da tutelare. Quelli di coloro che lavorano nell'ILVA è quello dei tarantini che devono tornare a respirare, che hanno il diritto di respirare. E ringrazio per quel regalo che mi è stato fatto perché per me quello è il simbolo di persone che in questo momento sono state e sono in balia di una serie di decisioni che sono passate sulla loro testa. Questo congresso per me è l'occasione importante per poter parlare ad una parte del Paese che conosce bene le questioni di chi lavora. Ed è anche chiaro che chi lavora sa bene quanto il costo del lavoro stia pesando sui datori di lavoro e sulle aziende. Il costo del lavoro in Italia è ben al di sopra di quelle che sono le medie europee. ma se in questo momento si può fare un lavoro sul costo del lavoro, sull'abbassamento del costo del lavoro, deve andare prima di tutto nella direzione di quelli che sono i lavori che stanno arrivando e che possono dare nuove occasioni lavorative ai cittadini italiani. Con i livelli di disoccupazione giovanile che abbiamo noi possiamo agganciare una grande rivoluzione nelle nuove tecnologie, nel made in Italy, nella cultura, nel turismo per poter sgravare prima di tutto quei settori del costo del lavoro in modo tale da poter incentivare assunzioni e poter far sviluppare dei settori che in altri Paesi d'Europa sono molto più avanti. Noi qui in Italia abbiamo messo poche centinaia e dico noi perché ormai io rappresento lo Stato quindi anche se l'hanno fatto quelli di prima poche centinaia di milioni di euro in tutto il mondo delle start-up innovative. Macron in Francia con il quale, come sapete, anche in queste ore non corrono buonissimi rapporti e quindi sono insospettabile nel volerlo osannare però do atto a Macron che ha investito 4 miliardi di euro nelle start-up innovative. Questo settore, quel settore che permette anche la digitalizzazione e l'innovazione di industrie della vecchia economia perché questi settori qui sono ricerca, sviluppo ma sono soprattutto giovani. Anche in queste ore ci sono ragazzi che stanno facendo un biglietto per andare a Londra di sola andata. anche in queste ore. Finché ce ne sarà soltanto uno io non mi arrenderò a lavorare su quelle che sono le opportunità nuove di sviluppo per il nostro Paese. Ovviamente e mi avvio alla conclusione perché il mio voleva essere un saluto ma mi sto appassionando ovviamente tante persone che faranno parte di questo cambiamento del mondo del lavoro avranno un grande problema che è quello della riqualificazione perché ci saranno realtà che purtroppo andranno in una direzione che è quella non della chiusura ma della riconversione avranno bisogno di nuovo personale e questo nuovo personale andrà riqualificato. Ieri ho incontrato il Ministro del Lavoro tedesco perché loro hanno un sistema di centri per l'impiego che è molto efficiente ma soprattutto si basa su un sistema costituzionale simile al nostro perché io come Ministro del Lavoro riunirò il prima possibile gli assessori al lavoro delle singole regioni perché i centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro fanno parte dell'impianto della legislazione concorrente e quindi delle regioni. Ma quel tema lì lo dobbiamo affrontare prima di qualunque altra cosa perché oggi i centri per l'impiego in molte parti del Paese sono un'umiliazione e non un'opportunità. Io ce la metterò tutta su quel fronte perché so che tanti ragazzi che stanno diventando NIT cioè che stanno perdendo le speranze in qualsiasi cosa studiare, cercare un lavoro stanno diventando NIT anche perché sbattono contro un centro per l'impiego che si prende il loro curriculum e gli dice vi faremo sapere e non gli fanno mai sapere. Questo tema qui è la premessa per un'altra questione. Noi siamo stati mandati in Parlamento come forza politica dal 32% del Paese per realizzare una misura che si chiama reddito di cittadinanza. Questo strumento crea tante giuste obiezioni perché non lo conosciamo e devo dire che c'erano obiezioni anche nell'altra forza politica con cui condividiamo questo governo ma poi glielo ho spiegato. L'obiettivo non è quello di dare soldi a qualcuno per starsene sul divano. L'obiettivo è un altro è dire con molta franchezza tu hai perso il tuo lavoro perché quel settore è finito oppure si è trasformato. Adesso ti è richiesto un percorso per formarti, riqualificarti ed essere reinserito nei nuovi settori su cui stiamo facendo degli investimenti e dobbiamo fare degli investimenti. Ma siccome hai dei figli mentre ti formi e mentre lo Stato investe su di te io ti do un reddito. In cambio tu dai al tuo sindaco ogni settimana otto ore lavorative gratuite di lavori di pubblica utilità. Questo strumento è uno strumento che ovviamente ovviamente può muovere tante tante obiezioni però io ci credo molto e dobbiamo farlo insieme. Io chiedo anche a voi una mano su questa cosa perché sul reddito di cittadinanza noi non arretreremo e ci metteremo insieme come forze politiche come parti sociali se vorrete per realizzarlo senza che ci siano degli abusi perché la vera grande questione è la riconversione di chi oggi ha bisogno di essere riqualificato e reinserito lavorativamente passa per i centri per l'impiego ma passa anche per un reddito perché altrimenti staremo ad accettare qualsiasi tipo di lavoro anche non retribuito pur di sfamare nostro figlio anche alla fine della settimana o alla metà della settimana. Un'ultima cosa sulle delocalizzazioni No, assolutamente guardi che il tema dell'industria il tema degli investimenti nelle imprese è un tema non solo che abbiamo a cuore ma quando io affronto il tema delle delocalizzazioni di cui volevo parlare proprio adesso sto parlando del fatto che tante aziende e anche industrie devono restare sul nostro territorio soprattutto se hanno avuto accesso a fondi dello Stato pagati dagli italiani Deve essere importante questa cosa la settimana prossima in consiglio dei ministri porterò già una prima norma stringente sulle delocalizzazioni perché le aziende non possono lasciare i lavoratori in mezzo a una strada dopo che hanno preso i soldi delle loro tasse e se ne vanno a delocalizzare in giro per il mondo lasciatemi dire un'ultima cosa sull'Unione Europea l'Unione Europea in questi anni è stata quella che abbiamo conosciuto ogni qualvolta si toccavano degli argomenti come le pensioni ce lo chiede l'Europa e si è fatta la legge Fornero poi si sono fatte le delocalizzazioni perché c'era una norma europea che lo consentiva poi si sono licenziati i lavoratori perché c'erano una serie di questioni che riguardavano alcune quote di mercato che non ci permettevano più di sviluppare un settore poi abbiamo visto l'agricoltura arretrare perché si aprivano a dei mercati che producevano alla metà del costo del lavoro nostro senza norme di sicurezza abbiamo conosciuto un'Europa che dal punto di vista dei pensionati dei lavoratori e dei disoccupati è sempre stata purtroppo una matrigna più che invece una realtà che doveva accompagnarci nei diritti e nella solidarietà l'Europa serve se lavora sul pilastro sociale se invece continua a lavorare sulle banche e sulla finanza i cittadini non la seguiranno ieri ho detto alla commissaria Thyssen che è la commissaria di riferimento per il mio ministero che noi sosteniamo tutti gli interventi di politiche sociali che vorrà fare l'Unione Europea con il fondo sociale europeo con il fondo sulla globalizzazione ma a due condizioni prima di tutto che ci deve essere un semplice accesso a questi fondi perché a volte anche le più grandi entità dello Stato attrezzate non riescono ad accedere a questi fondi per problemi di burocrazia europea perché la burocrazia non è solo un problema italiano è anche una forma mentis dei provvedimenti europei e un'altra è che non si possono destinare questi fondi a parti dell'Italia solo in base al pil di quella zona del paese dobbiamo cominciare a destinarli in base agli indici di disoccupazione delle varie zone del nostro paese e è vero che il pil è un indicatore di ricchezza ma è anche vero che il pil dell'Italia cresce ma allo stesso tempo i livelli di povertà continuano ad essere notevoli e a non arretrare quindi su questo fronte io credo che dobbiamo soprattutto sui fondi europei che intervengono sul sociale e sulle politiche attive del lavoro cominciare ad individuare sempre più criteri legati alla disoccupazione per vederne la destinazione su determinati territori io oggi sicuramente non ho affrontato tutti gli argomenti che volevate ascoltare ma la mia presenza qui a 15 giorni dal mio insediamento e spero di poter intervenire anche agli altri congressi delle altre sigle di rappresentanza non mi sto autoinvitando se vorrete se vorrete invitarmi ovviamente la mia presenza qui è per comunicare una cosa sono consapevole che da soli non si va da nessuna parte se si riesce a lavorare tutti insieme si trovano le soluzioni migliori ed è questo quello che voglio fare come ministro del lavoro e dello sviluppo economico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti